Parliamo dell'Oden, un capo che ha una storia e una tradizione. Il capo viene realizzato, pensate, in un tessuto di lana cotta, 80-20, 80% di lana che dà un'ottima performance durante il periodo invernale e un 20% di alpaca che lo rende assolutamente adatto a qualsiasi intemperia. Il Loden viene trattato con un trattamento anti-goccia e anti-pioggia, quindi a idrorepellente, viene presentato con il caratteristico collo camicia, il davanti a bottonatura a vista con dei bottoni con inserti in pelle, due alamari sulle maniche e una profilatura che ne garantisce la preservazione del tessuto anche dopo un certo periodo di usura. Dietro il capo presenta il caratteristico spacco con la slargo perché tradizionalmente era usato dai cacciatori quando imbracciavano il fucile. Senza questo spacco il capo perderebbe la sua natura. Oggi acquistare un Loden significa acquistare un capo che conserva un'eleganza assolutamente particolare. Voi lo potete acquistare direttamente presso la nostra sede, noi siamo vicino a Milano, vicino a Berescia, a Bergamo, a un chilometro dal casello Brebemi di Romano di Lombardia. Il capo è disponibile in tutte le taglie, sia da quelle più piccole sia quelle più grandi. Lo facciamo in diversi colori, ma quello più gettonato è il classico verde sottobosco che è assolutamente trasversale e assolutamente indicato per qualsiasi occasione. Andiamo a vedere un attimo le misure, come prenderle. Si prende il proprio cappotto preferito, lo si mette su un tavolo e suggerisco di misurarne il punto della vita. Quindi in questo caso, per esempio, la 48, tengo lo svargo chiuso e misuro una certa misura. Voi mi dite la misura del vostro cappotto preferito e noi vi spediamo quella che è corrispondente del Loden. Può essere che la taglia non corrisponda con un cappotto tradizionale, perché il Loden ha una sua vestibilità, pertanto vi suggerisco in questo caso di farvi aiutare dal nostro ufficio spedizioni proprio per non sbagliare la misura. In questo momento sto indossando il Loden, voi vedete come lunghezza arriviamo appena al ginocchio, con la possibilità anche di una manica abbastanza lunga, quindi adatta a qualsiasi tipo di corporatura e questo slargo che quando io piego il braccio mi segue, mi dà una grande mano. Ecco, io sono abituato a portare una taglia 52-54, per questo motivo dello slargo e della vestibilità del Loden mi sono preso una 48, quindi è proprio diversa dalla vestibilità di un altro cappotto. Voi mi dite la misura della mezza vita e noi saremo felici di darvi la taglia più indicata. Allora, il capo è acquistabile tranquillamente presso il nostro punto vendita di barbata, dove potete venire, toccare con mano la qualità dei capi e scegliere quello che è di vostra preferenza. Oppure potete comodamente acquistarlo online, comunicando con noi tramite il sito internet, tramite whatsapp, tramite telefono, tramite l'email e procedere con il pagamento e l'acquisto online in tutta autonomia. Riceverete con il corriere espresso il pacchetto qualche giorno lavorativo successivo direttamente a casa vostra.